ciao a tutti ragazzi sono Matteo Lemo e benvenuti in questo nuovo video reaction allora sono ancora a fare delle reaction delle clip su Lili di vagabondo ormai il film è già uscito però sono qui lo stesso è la terza volta che vado indietro iniziamo Lili wow quello lì è è Fido Fido wow Whisky Whisky ciao Whisky come va Whisky Fido questo è il vagabondo viaggio bellissima oh mamma mia singhiozzo mamma mia viaggio sei veramente diverso dal cartone solo che diverso sembri dal muso sembri più vecchio molto più vecchio no ma è già finito ragazzi mi stai scherzando ma è già finito ma sono seri non ho parole altra poco eccomi tornato eccomi tornato registrando sta registrando vero si passa anche clip di prima che abbiamo già visto poco fa dura tantissimo questo qua non so quale ma è alcuni 20 secondi alcuni 3 minuti non lo so non spiegabile pazzesco abbiamo visto queste nuove ragazze di questo c'è non me lo ricordo come è possibile cioè non neanche queste qua io mi ricordo non nevo ragazzi non tutto c'è entriamo 12 novembre già uscito ma io anche io questa prima me lo ricordo assolutamente queste qua si questa pure queste qua esce a mesi si questo come la ricordo gli altri sciamesi scusatemi fa vedere un attimo c'era la bambina bambino 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 e bambino mi è piaciuto molto anche il due telato di vagabondo acqua quando aveva museruolo ok che gli erano tolto ma non è la castora che lo aiuta nelle castore io questa che non c'era ragazzi non me lo ricordo questa qui questa hanno aggiunto delle cose quasi di questi questi me lo ricordo questa pure e quando coraggio a questo farsi ragazzi all'inizio all'inizio che mi regala di questo quasi raga bellissima quando stanno abituando vabbè che stiamo abbiamo già visto per col giorno sì questi pesi che si chiama sì io quella indietro me le ricordo di clip bu sia nuove questa sì come dimenticarsela questa ma io queste due due barboncini non me li ricordo non c'erano nel cartone neanche questa qua c'era ma sì questo quasi non era comunque il che correva dietro al furgone della calapiacano ecco qua un'altra clip sì anche questa qua me la ricordo ragazzi è dolce sogna per lasciarci culla nell'incanto della notte il piccino e il suo amore bella così buono quanto mi piace questa clip poco un minuto sono tutte qui ecco perché doveva così può calcio wow che bomba che bomba ragazzi il vagabond da qua vale un ovviamente anche questa è finita niente me ne manca una sola e a tra poco grazie